Oggi siamo su un gioco dove si sclera male, io ripartirò dal primo livello per far vedere cos'è, praticamente si tocca e i pulcini, gira o salta poi, cioè io sono arrivato tipo al livello 18, 19 mi sembra tipo, è proprio uno sclero perché ci sono tipo 5 di seguito qua siamo di nuovo con mia sorella, wow, sto già facendo il terzo livello così guardate, tipo qua comincia due, beh adesso è facile perché sono abituato con quelli difficili oh mio dio li sto facendo così beh ma aspettate adesso unita la velocità sei sì qui stiamo facendo video sul suo letto quindi è comodissimo ah già non sarebbe stato meglio sul divano no ecco sette ah e se guardate in alto scoprirete che ci sono mille livelli cioè e no 20 sì mille tu sei arrivato al mille magari nooo ultima curva ah e quando muoio e sei a livello tipo 4 e cominci dal 4 e non vale a meno sì ovvio già solo che sono mille come vedete ci sono tanti personaggi perché io andando avanti nei livelli li ho sbloccati eh otto adesso questo è il livello che se stai ai lati cadi eh beh questi sono anche abbastanza facili una volta fatti un casino di volte ma adesso appena arrivo a quelli eh quelli più difficili nooo vedete va sempre più veloce man mano che si sale di livello e ti viene di riflessi cioè quando sei qua che fai il livello 3000 volte poi ci riesci nooo non ci c'era mai undaci eeeh 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 c'è proprio il fail il peggio fail cosa attendi perché c'è eeeh 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 Il 14, dovrebbe essere abbastanza facile. Facile? Sì, vabbè, avremo così. Perché erano solo curve, un salto solo. È difficile parlare, stare concentrati su sto gioco. Ma sta zitto, no? No. No, devo parlare per chi mi segue. Per chi ti seguirà? Ah! Ma se non li puoi per chi li ha? Sì! Oh mio Dio. Eh, il 13 è facile. Oh, vedo quanto è facile. Beh, vabbè, mi sono sconcentrato. Non parlavo mica quando l'ho fatto. Di quanti anni hai? 11. Di quanti anni ho? 8. Mi compio 9! Chi se ne frega, anche io ne compio 12. No! Sei cattivo, non è così. Stai, ferma! Ma è cattivo? Fermi! Ehm, la capra! Eh! Vuoi quanto, quando copiate gli anni? Beh? Basta, io il 7 luglio, tu il 15 giugno. E ci piovere! Ma basta, che loro non sanno niente chi è. E' fiocco, non so tanto. E campi il 17 luglio! Io del 2007 e lui del 2004, quindi... Adesso comincio a sclerare. Cosa significa? Stai zitto. Sia per te, sia per i livelli. Ecco, brava! Sia per te, sia per i livelli. Allora, devi dire meglio che stiano zitti. Tu sei tu che parli. Allora, tu sei tu che stupido. Comunque, i miei video per la maggior parte non saranno lunghi più di 8-10 minuti così. Perché se no, poi... Ci mettono un casino a farsi... A caricarsi... Eeeh... Quando sbagli faccio il cavallo. Sì, smettila di muoverti, però. Basta, mi stai sputando sul tablet! Chi se ne frega! Ma basta! C'ho il tablet pieno di tu e sti caghezze! Ma basta! E adesso farà... Bene, adesso raggiungo il livello 15, poi finisco il video. Perché mi ha fatto? Sì. Bene, per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Iscrivetevi al canale, lasciate like. E ciao a tutti! Eeeh! Eeeh! Grazie a tutti